La visita compiuta in Georgia lo scorso settembre porta tanti ricordi e grande gioia. Con queste parole Papa Francesco ha salutato in Vaticano la delegazione di fedeli dell'amministrazione apostolica del Caucaso. Nel saluto il pontificio ha rimarcato la cultura e la spiritualità del popolo georgiano, un popolo che loda Gesù Cristo come il Salvatore. Affetto e ammirazione sono stati poi espressi per il patriarca Elia II, definito un uomo di Dio. Papa Bergoglio infine si è detto sicuro che il cammino ecumenico andrà avanti, che bisogna cercare il modo senza forzare di camminare insieme, anche lentamente.